Ben tornati nel teatro di San Carlo, il teatro più antico del mondo. Oggi parleremo di Aida, l'opera di Giuseppe Verdi, che sarà nel cartellone della regione lirica la rassegna estiva del teatro di San Carlo in piazza Plebiscito. Aida arrivò al San Carlo nel 1872. Nel primo atto dell'Aida noi troviamo un po' presentati tutti i personaggi che saranno protagonisti di questa opera. Abbiamo il grande sacerdote Ranfis, che invoca la Dea Iside per essere ispirato sul nome del condottiero che potrà salvare l'Egitto dall'esercito nemico etiopico comandato da Ammonasro. Questo re degli Etiopi vuole infatti vendicarsi di una sconfitta passata e riprendersi sua figlia che è stata fatta prigioniera e che si chiama Aida. La ragazza in realtà è schiava all'interno del palazzo reale egiziano, ma nessuno conosce la sua vera identità. Anche il capitano delle guardie, che poi diventerà il condottiero dell'esercito egiziano, Radames, è innamorato della ragazza ma non ne conosce l'origine. Purtroppo per i due giovani innamorati su Radames ha messo gli occhi la figlia del faraone Amneris e la principessa si rende conto immediatamente, tipica intuizione femminile, che c'è qualcosa di tenero tra Radames e la giovane Aida. Il sacerdote annuncia a tutto il popolo egiziano il volere degli dèi e proprio Radames la persona che viene indicata dalla dea Iside come il condottiero che salverà l'Egitto. Nel secondo atto giunge a palazzo la notizia che Radames ha vinto contro gli Etiopi e Amneris, già pregusta di poter avere Radames per sé, arriva Aida e la principessa la vuole mettere subito alla prova e con una stratagemma riesce a farle confessare di essere innamorata di Radames. Le dice prima che Radames è morto in battaglia, poi le dice no, è vivo, e lei ha un sussulto e confessa di amarlo pazzamente, ma accetta questa schiava una sfida impossibile e dichiara alla principessa che combatterà per il suo amore. Radames arriva onorato con il corteo dei prigionieri e nasce qui, questo punto super famoso dell'opera che è la marcia trionfale con l'entrata in scena di tante masse corali e tra i prigionieri Aida riconosce suo padre che non è stato a sua volta invece riconosciuto come il re degli Etiopi ma come un soldato qualunque. Radames fa la sua richiesta e chiede di avere in moglie la persona che deciderà lui e intanto però fa liberare tutti i prigionieri etiopici. Amneris si oppone però che sia liberata anche Aida e anche l'uomo che è visibilmente legato alla ragazza. A questo punto il faraone distrugge il sogno di Radames perché lo previene dando in moglie all'eroe sua figlia Amneris. A questo punto la disperazione è palese su tutti i nostri protagonisti tranne Amneris che sembra vittoriosa. Nel terzo atto la situazione precipita. Abbiamo un appuntamento di notte sul Nilo in una zona assolutamente deserta tra le palme dei due innamorati. per l'ultima volta si vogliono salutare Radames e Aida ma sembra che tutti si trovino per caso nello stesso momento in quel luogo isolato perché prima spunta il padre della ragazza che spiega a Radames che lui è il re degli Etiopi e il condottiero egiziano ha un brivido perché si rende conto di aver tradito la sua patria facendo in qualche modo scampare proprio il capo dei nemici. e poi gli offre di scappare con loro ma mentre Radames non ha ancora preso una decisione e non ha ancora risposto tutta la scena è accerchiata dall'arrivo delle truppe egiziane con il grande sacerdote che circondano i fuggiaschi hanno sentito le ultime parole e sono convinti che Radames sia un traditore. Radames si interpone per salvare la ragazza così la ragazza fugge con suo padre e lui si offre volontariamente al suo destino. Nel quarto atto si ha l'epilogo molto rapido Radames è condannato a morte Amneris lo supplica di accettare la grazia di sposarla ma lui è un combattente un eroe non potrebbe mai fare una azione vigliacca e preferisce morire. Lei si pente di aver distrutto il suo amore per il suo egoismo e Radames viene accompagnato con un coro festante al suo ultimo passo c'è una tomba scavata nella pietra e lui viene fatto scendere nell'oscurità e poi viene sigillata questa tomba pensa di essere solo e invoca il nome di Aida e Aida gli risponde perché la ragazza si è nascosta nella stessa tomba vuole condividere con lui l'ultimo momento di vita si abbracciano teneramente intonano un dolcissimo canto di addio alla terra alla vita e qui c'è un colpo geniale del grande drammaturgo Verdi perché contemporaneamente a questo canto dolcissimo di addio alla vita si ascoltano nella parte superiore della scena i canti di gioia dei cittadini egiziani che invece festosamente stanno celebrando questo momento questa sovrapposizione ha un sapore pionieristico sembra quella che poi sarà tipica del cinema del secolo successivo ecco il racconto dell'Aida ci fa vedere quanto in realtà sia molto poco orientale poi alla fine la vicenda è tutta basata su situazioni molto umane di amore, di gelosia, di passione, di guerra e infatti l'opera contrariamente a quello che possiamo pensare non è affatto un'opera tutta basata sulla grande celebrazione delle masse festosa come la famosa marcia ma su duetti, terzetti su situazioni intimistiche su dichiarazioni d'amore su gesti molto molto riflessivi ecco il Verdi drammaturgo riesce a entrare nella psicologia dei suoi personaggi e noi pensiamo che da allora questa storia ha ancora la capacità di incantare il pubblico di oggi un ultimo particolare sapevamo già che Verdi aveva un'attenzione a ogni minima struttura che lui inseriva in una partitura per esempio lui controllava davvero tutti gli aspetti addirittura disegnava lui i costumi le scene che avrebbe voluto vedere in scena ma il caso della musica egiziana per lui era un mistero insolubile non riusciva a capire che cosa potesse suonare egiziano antico allora si rivolse ai primi pionieri della musicologia che cercarono di aiutarlo dando gli indicazioni su flauti molto antichi Verdi non si accontentò si fece fare una descrizione esatta delle trombe di bronzo trovate in una tomba e volle ricostruire queste trombe e farle suonare in scena segnando dei suoni esatti a ciascuna questa è la grandezza di questo compositore che da allora introdusse le cosiddette trombe egiziane che ancora oggi rendono assolutamente inconfondibile la marcia trionfale e l'Aida per il pubblico di tutto il mondo oggi abbiamo parlato di Aida di Giuseppe Verdi arrivederci alle prossime produzioni del teatro di San Carlo di Napoli e il pubblico di San Carlo di Napoli